Ciao a tutti, sono Titan e oggi sono qui con il recap finale di Game of Thrones Allora, Game of Thrones, serie davvero bella, azzardaria a dire bellissima Forse la miglior serie che mi son visto negli ultimi anni Perché boh, nel 2017 mi son visto, in inizio 2018 mi son visto un botto di belle serie Ma dalla seconda metà del 2018 a quando, il mese scorso, mi son visto Game of Thrones Non c'è stato niente di particolare, troppo degno di nota Quindi, davvero bella Game of Thrones Sì, come tutte le serie ha avuto i suoi alti e bassi, diversi bassi un po' verso la fine Però, tutto sommato, il percorso dalla prima all'ottava stagione è stato fantastico E questa serie è la dimostrazione che la differenza, il divario tra serie tv e cinema Si sta sempre più assottigliando E questa è una cosa che mi fa molto piacere Devo fare... faccio i miei complimenti ai sceneggiatori Anche a George R. 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 Martin per i libri e perché ha anche aiutato ovviamente nella creazione della serie E a tutti gli attori che con le loro grandissime performance sono riusciti a farmi appassionare a questa grande serie Che mi resterà impressa, penso, per sempre Davvero, davvero una gran serie Sono veramente dispiaciuto per come hanno scritto le ultime due o tre puntate Perché secondo me, dopo un percorso così bello, devono dare una fine migliore a molti personaggi Quindi, sì, un po' mi dispiace Però devo dire che anche se gli episodi finali non mi hanno convinto più di tanto Sono stato veramente felice di tutto, di averla vista, di qualsiasi cosa Beh, ovviamente dal lato tecnico non si può praticamente dire nulla Perché secondo me fotografia e regia è ineccepibile In praticamente tutte le puntate E non si può dire niente Poi, vabbè, ci sono state delle scelte magari discutibili nel corso della narrazione Però, cioè, però alla fine è una cosa che va da persona a persona Magari a me è piaciuta, qualcun altro no, qualcun altro sì, a me no Quindi, alla fine sono cose abbastanza soggettive E come per esempio le morti Anche a me hanno fatto morire personaggi che mi piacevano molto Però non sto parlando di questo perché nel prossimo video, che sarà quello dei personaggi Parlerò in modo approfondito dei personaggi che mi sono piaciuti di più E li analizzerò, diciamo Beh, quindi E poi altra cosa che devo veramente dargliene atto ai sceneggiatori D&D Che veramente Game of Thrones mi è piaciuta tantissimo Già dall'inizio Per il semplice fatto che molte serie ci mettono mezze stagioni O addirittura stagioni intere a introdurre il tutto Invece Got no Ha iniziato su Cioè, ti ha lasciato le prime due puntate che sono un attimo una mini introduzione Poi hanno iniziato già a succedere cose Cioè, veramente Anzi no, cos'è? La prima puntata o la seconda? Che Jamie butta giù Brambo Comunque, quindi inizia già col botto Ma serie di questo tipo piacciono tantissimo Che iniziano subito con la narrazione veloce E poi proseguono in modo graduale Fino alla fine E veramente questa è una cosa che ho perso tantissimo Boh, penso che Vabbè, ho detto della narrazione Ho detto a livello tecnico Ho fatto i complimenti di attori Sceneggiatori, vabbè Beh, comunque a proposito Vorrei dire ancora una cosa Poi chiudo il video Che la settima stagione È stata la prima In cui gli sceneggiatori E showrunner D&D Li chiamerò perché non voglio stare A dire ogni volta che parlo di loro i nomi Cioè, è stata una bella stagione Molto bella Mi è piaciuta tantissimo Le mie preferite Ma è stata la prima in cui loro L'hanno fatta Diciamo Non da zero Ma comunque Non hanno Non c'erano più libri Cioè, non c'erano più cose da Da adattare dai libri di Martin E quindi l'hanno L'hanno fatta di loro D'oro Fontana volontà Cioè, con le loro idee Ovviamente Martin li ha aiutati Con delle sottotrame Però comunque Non Cioè, non è che hanno adattato i libri Come le sei stagioni precedenti Quindi Devo fargli i complimenti Per questa settima stagione Poi nell'ottava Si è lasciato un po' desiderare Come hanno fatto il tutto Però Di questa serie Mi ritengo talmente soddisfatto E sono contento di averla iniziata Beh Per questo recap finale Penso Possa essere tutto Ci vediamo Al prossimo video Che sarà Quello sui personaggi Sempre di Game of Thrones E poi Ci Distaccheremo appunto Da Da Got Per un po' E Farò recensioni Di Di altre Di altre cose Magari potrei tornare Con una recensione Di un disco Che da un po' Che non la faccio Bene Per questo video è tutto Ci vediamo Al prossimo Ciao